Dopo il grido d'allarme lanciato dal sindaco di Atessa Nicola Cicchitti in merito ad un possibile ridimensionamento del presidio ospedaliero della Val di Sangro, ieri pomeriggio il presidente della giunta regionale commissario ad acta per la sanità Luciano D'Alfonso ha incontrato i rappresentanti della ASL Teatina e i sindaci del territorio servito dall'ospedale di Atessa. D'Alfonso nel corso della riunione ha tenuto a precisare la volontà della regione di continuare ad investire nell'area della Val di Sangro passando anche per la sanità. All'incontro era presente anche il coordinatore regionale di Abruzzo Civico Giulio Borrelli e un rappresentante del comitato dei cittadini che ha raccolto oltre 5.000 firme per il mantenimento del presidio ospedaliero di Atessa. Attualmente il Delelli soffre servizi di day surgery e week surgery, cioè servizi di piccola chirurgia. Inoltre, secondo un atto di indirizzo dell'ASL, ad Atessa dovrebbe installarsi un'unità operativa complessa di riabilitazione. D'Alfonso ha ricordato che i fondi per l'edilizia sanitaria ci sono, 473 milioni di euro, e che c'è la volontà di investire, ma che altresì, la regione è impegnata in un lavoro difficile di riordino complessivo della sanità. Intanto migliorano i livelli essenziali di assistenza della sanità abruzzese e l'apposita griglia predisposta sulla base dei documenti presentati dalla regione Abruzzo ha ottenuto un punteggio di 152 rispetto ai 145 punti del 2012. A renderlo noto è l'assessore alle politiche della salute della regione Abruzzo Silvio Paolucci dopo le valutazioni effettuate dal comitato LEA presso il Ministero della Salute. Secondo Paolucci questa è la conferma che bisogna proseguire sul cammino delle riforme, come quelle relative alla riorganizzazione dei punti nascita, alla riconversione delle strutture territoriali e aumentando l'offerta sanitaria per la popolazione più fragile.